Quando la dolcezza dei suoni micelata all'armonia dei colori dà origine ad un trionfo di emozioni che attraversano i nostri sensi ed arrivano diritti al cuore, vuol dire che stai guardando uno spettacolo pirotecnico firmato Piro Fantasy. Professionalità e serietà sono prerogative fondamentali nella politica aziendale che ci permettono di realizzare spettacoli pirotecnici ad alto impatto scenografico in ogni situazione, centrando a pieno le esigenze dei nostri clienti. La garanzia importante che Piro Fantasy dà a tutti i suoi clienti è quella di legare il pagamento all'esecuzione dello spettacolo, cioè Piro Fantasy chiede esclusivamente il pagamento, quindi non richiede acconti o step successivi, ma chiede un pagamento secco solo dopo che il cliente ha visto lo spettacolo. Questo perché siamo sicuri e convinti di quello che facciamo e perché vogliamo dare al cliente in questo modo massima garanzia e trasparenza di quelli che sono i servizi che Piro Fantasy offre. Piro Fantasy realizza per voi fuochi aerei, acquatici, piromusicali, di piazza, scritte e disegni, il tutto mantenendo il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Mezzi e metodi di lancio up-to-date, supportati da tecnologie informatiche continuamente aggiornate, mortai, accensioni elettriche e trasmettitori sono realizzati e collaudati per essere ridondanti rispetto alle norme di sicurezza vigenti, per garantire la completa prevenzione da ogni sorta di incidente sia agli spettatori che agli operatori. Con due depositi, cinque negozi su Roma, duemila clienti della distribuzione, 200 grandi eventi e 500 matrimoni l'anno, Piro Fantasy si attesta come azienda leader nel settore e per questo deve garantire sempre massima sicurezza. Piro Fantasy è infatti autorizzata dalla prefettura alle manipolazioni dei fuochi artificiali. I mezzi di trasporto ed il personale specializzato sono autorizzati al trasporto di esplosivi dalle autorità competenti. Ogni spettacolo è assicurato a norma di legge per la responsabilità civile. Enti pubblici e aziende con i quali Piro Fantasy collabora. Comune di Salerno, Comune di Civitavecchia, Comune di Maratea, Comune di Sapri, Comune di Termoli, Ambasciata di Giordania, Città del Vaticano, Red Bull, Milan Associazione Calcio e molti altri. Contatta Piro Fantasy sul sito www.pirofantasy.it Uno staff efficiente e preparato è pronto a darti ogni forma di assistenza professionale, garantendo creatività ed originalità per il tuo spettacolo pirotecnico.